Loro due sono Carl e Mark. Carl e Mark si sono laureati insieme in economia, erano addirittura coinquilini. Carl è di Salerno, il papà insegnante e la mamma commercialista. Mark invece è di Milano, il papà è senior manager in una società di consulenza e la mamma invece è marketing specialist per un'azienda di moda. Mark sa perfettamente come funziona il mercato del lavoro, Carl no, non può saperlo. Pensate che la mamma di Carl gli invia ancora ogni giorno i link ad ogni singolo concorso pubblico che venga fatto nella provincia di qualche paesino in Campania. Il papà invece crede fermamente che lavorare in Enel significhi fare l'elettricista. Sono passati tre anni e Carl e Mark si sono appena laureati e decidono di iniziare insieme il loro percorso professionale in Deloitte entrambi in apprendistato a 36 mesi con una ral di partenza di 25.000 euro annui. Per Carl è il sogno della vita, per Mark invece non è propriamente un traguardo. Passa un anno e da contratto Carl ottiene una promozione. Ora percepisce la bellezza di 27.000 euro annui. Mark invece, sotto consiglio del padre, decide di iniziare a guardarsi intorno e cambia azienda. Va in Accenture a fare la stessa cosa che faceva prima, ma per una ralla di 30.000 euro annui. Carl invece non vuole cambiare, nonostante venga contattato da qualche recruiter su LinkedIn. Si trova bene dov'è? In azienda viene riempito di complimenti. Attenzione, non di soldi o benefits, soltanto utilissimi complimenti. Mark invece guarda soltanto a se stesso e al proprio percorso. Passano altri due anni e ora hanno entrambi un po' di esperienza accumulata. Carl finalmente termina l'apprendistato e viene assunto a tempo indeterminato con una ralla di 30.000 euro. Mark nel frattempo ha continuato a fare colloqui ed è rimasto attivo sul mercato e ha cambiato nuovamente azienda. Ora ha una ralla di 35.000 euro annui, più diversi benefit molto competitivi. Carl vede Mark come una rivista. Mark invece vede Carl come una persona che si fa sfruttare dalle aziende e regala le sue capacità. È passato qualche anno, i due hanno ormai oltre 10 anni di esperienza, hanno perso un po' i contatti tra i vari impegni della vita, ma si sono continuati a stalkerare attraverso Usivi, che nel frattempo è diventata una delle piattaforme punto di riferimento del mercato del lavoro mondiale. Per chi se lo stesse chiedendo, Usivi è la mia startup sulla quale vi consiglio di caricare e creare da capo il vostro CV sfruttando la procedura guidata. È completamente gratuito. Succede però una cosa inaspettata. Mark e Carl si rincontrano in uno dei luoghi più impossibili da immaginare. Sto parlando della sala riunioni di Deloitte. Carl ora è manager, percepisce oltre i 45.000 euro di RAL, ha un'auto aziendale e premi produzione, e sentite un po', riporta direttamente a Mark, che ora è il suo responsabile. Mark infatti non si è mai legato a nessuna azienda e ha da sempre preso le scelte migliori per se stesso, cambiando spesso azienda e sviluppando il suo network. Ora una retribuzione di oltre 60.000 euro di RAL, auto aziendale, stock option e bonus produzione. E la cosa che più gli dà soddisfazione è che è il capo di Carl. E questa storiella ragazzi, verosimile, è secondo me uno dei paradossi più grandi del mercato del lavoro. E cioè che la fedeltà in azienda purtroppo non è mai ripagata. Prima di entrare nel mondo delle risorse umane pensavo logicamente che sostituire una risorsa fosse molto più costoso e dispendioso rispetto che magari dare un aumento o dare quello che merita a una risorsa già presente. Non tenevo però in considerazione una piccola cosa. Immaginiamo una grandissima azienda, enorme, non so Gucci, con oltre un migliaio di dipendenti. Tenete conto che da bilancio le spese per il personale, i costi del personale, sono quasi sempre tra i costi più alti che un'azienda deve sostenere. Immaginate ora che tutte queste mille persone percepiscono quanto realmente meritano e quanto valgono. Cioè, dati di mercato alla mano, ogni due anni il loro valore aumenta di un 10% perché acquisiscono seniority. Vi renderete conto che per le aziende dare ai dipendenti realmente quello che meritano è un costo non sostenibile. E quindi si fa un bilancio tra chi resta, sta zitto, sta in silenzio e può essere sottopagato, e chi invece decide di alzare la testa e prendere le migliori decisioni per se stessi e per il proprio percorso. Per non parlare che in molti casi gli HR hanno incentivi non sul turnover, ma sulle assunzioni. Per cui anche per l'HR, se ce ne andiamo, non se ne frega particolarmente. Ora, presa coscienza di questa cosa, come si evita e cosa possiamo fare? Punto primo, se restiamo in un'azienda deve essere perché siamo pigri e non ci va di cercare. Quindi se passano 10 anni e siamo ancora nella stessa azienda, significa che già abbiamo fatto un'analisi dei nostri costi e opportunità e abbiamo ritenuto più comodo restare dove stiamo. Quindi nessuna lamentela. Punto secondo invece, nel momento in cui ci rendiamo conto che la nostra priorità è fare carriera, guadagnare più soldi, crescere economicamente e personalmente, dobbiamo cambiare. Fine. Da Valerio Villani è tutto, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere la vostra opinione. E per il video di oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima!